Il primo maggio è appena passato ma già si torna a parlare di sfruttamento sul lavoro in Toscana. Con un'inchiesta nata nel luglio del 2019, infatti, la Guardia di Finanza di Piombino, coordinata dalla Procura di Livorno, ha portato alla luce un presunto giro di lavoro nero e sfruttamento. Nel minino degli investigatori sono finite tre aziende agricole della costa degli Etruschi, in Maremma, tra Livorno e Grosseto, che avrebbero impiegato centinaia di lavoratori italiani e stranieri in nero per 15-16 ore di media al giorno, con una paga di 2,5 euro l'ora. Anche le ferie erano difficilmente concesse, non retribuite, spesso oggetto di ricatto di licenziamento. Così sono scattati gli avvisi di garanzia per i tre imprenditori, con accuse di reati che vanno dall'intermediazione illecita allo sfruttamento del lavoro. I tre imprenditori spiegano le fiamme gialle in una nota, ricevuti gli avvisi di garanzia, hanno immediatamente proceduto al pagamento delle sanzioni amministrative, nel frattempo già contestate dalla Guardia di Finanza e dall'Inps, versando alle casse dell'erario circa 5 milioni e 800 mila euro. E proprio dalle violazioni amministrative si deduce l'entità del fatto illeciti riscontrati in 854 rapporti di impiego, 571 maxi-sanzioni per lavoratori completamente in nero e altre 283 per registrazioni errate sul libro unico del lavoro. Oltre, si legge, ad impiegare i braccianti senza contratto né copertura previdenziale assicurativa, i titolari avrebbero inoltre costretto diversi di loro, per lo più stranieri, a vivere in affitto in un casolare abusivo sugli stessi terreni delle aziende agricole, in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza riscaldamento e allaccio alla rete idrica e senza acqua potabile, con il costo dell'affitto decurtato dalla paga. Le indagini, infine, hanno riguardato anche i contributi ottenuti dall'Unione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Sarebbero emerse numerose irregolarità che gli indagati avrebbero commesso simulando il possesso dei requisiti previsti. Insieme ad una quarta azienda agricola, loro complici, infatti, gli imprenditori avrebbero prodotto finti contratti di affitto di terreni agricoli. Dal Fondo Europeo sarebbero arrivati circa 150.000 euro, usati poi impropriamente per pagare i braccianti e da qui l'ulteriore denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea.